ri 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 abilitate le uova lo zabaglione o zabaglione era lo era il viagra di una volta con le uova poche calorie ma molti antiossidanti e tante proteine di qualità vede sono state ri 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 la caccia alle striglie, la caccia al caffè, faceva male di qua, faceva male di là, figurarsi. Poi adesso hanno scoperto che il caffè contiene una quantità infinita di sostanze antiossidanti. E adesso c'è la riabilitazione delle uova, costano poco, costano tanto poco, si cuociono facilmente. Io per esempio mi faccio delle belle uova sode, se ne possono mangiare quattro a settimana, ma io penso che se ne possa mangiare anche di più di uova, dipende da cosa ci si mette dopo. Per esempio io posso cenare, cari amici, con due uova sode e tre kiwi, oppure due uova sode e tre mele. Sto benone a mezzo bicchiere di vino rosso e una sigaretta, capito? Io posso cenare con due uova belle sode, tre kiwi, oppure tre mele, mezzo bicchiere di vino rosso buono, una sigaretta e io ce l'ho a posto. Spendo poco questo benone. Una volta le mamme che avevano una figlia che si sposava, diceva alla figlia, figlia mia, durante la luna di miele, a tuo marito, preparagli tutti i giorni lo zabaglione. Lo zabaglione forse oggi non si usa più, ai miei tempi lo si usava, era un ricostituente lo zabaglione. Si mettevano due, due, tre tuorli, tuorli d'uova in una tazza, ci si versava lo zucchero e poi si cominciava a mescolare, a mescolare, a mescolare, a mescolare e finché veniva fuori una crema meravigliosa. Poi magari ci mettevi un goccio di liquore, un goccio di liquore. Era un ricostituente naturale, cari amici. E vedete, anche la medicina si cambia i vari, io penso che l'Europa non abbiano mai fatto male. Ovviamente vale sempre la regola in medio, stata Virtus. Tutte le cose vanno prese con moderazione, quindi eccolo qua. Guardate che bello, cari amici. Anche le uova sono state riabilitate. Guardate che bello, cari. Ok, cari amici. Ogni cosa con moderazione. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.